Musica Ciao ragazzi, ciao ragazzi e benvenuti in questo vlog post partita Semifinale d'andata di Coppa Italia, Milan-Inter 0-0 Sono qui con Steve, ciao Steve Ciao Allora, che dire di questa partita Allora, possiamo dire che più o meno ci abbiamo azzeccato tutti Perché io con chiunque abbia parlato Erano tutti lì un po' a pronosticar una partita Un po' scialba, un po' tirata Un po' anche impaurita Un po' impaurita Un po' che c'è andate ritorno Esatto E c'è il gol in trasferta che vale ancora Esatto Tra tutti devo dire che Manfredi, il mio amico Manfredi Lui si è proprio lanciato in un 0-0 Io pensavo sinceramente più un 1-1 Ovvio che nel dubbio mi tengo lo 0-0 tutta la vita Anche se Anch'io ho detto X a inizio live, ti ricordo X senza dare proprio risultati Anche se Posso dire che sto pareggio Sta un po' strattino Ma allora, partita tutto sommato equilibrata L'X ci sta Nel senso, partiamo questo presupposto Non c'è uno scandalo Non è uno scandalo, però Però se c'è una squadra che forse ha dato più l'impressione di poter trovare il gol In più frangenti è stato il Milan Non ricordo grosse occasioni per l'Inter Grandi sussulti Forse uno nel primo tempo Quel colpo di testa di Romagnoli che ha salvato Sì, lì il grande sussulto Lì il gran salvataggio E Calulu nel secondo tempo E Calulu su quella palla di Tranta Che ha salvato, diciamo, un passaggio Neanche un... Però diciamo che comunque Quelle sono state due... Noi ne abbiamo avute parecchie di situazioni Beh, ecco, voglio sottolineare questa cosa qua Nel senso che il Milan ha creato tanto, tantissimo La cosa che mi fa rabbia è che io penso ai sussulti, anche qui Quale conclusione ti ha fatto... C'era quella più grossa, è stata quella di Salemakers che si è mangiato Sì, quella che si è mangiato Esatto Però Dalitia, quando si è vista con la palla uscire verso di lui Che aveva tutto il tempo con Andanovic che era in rincorsa Lì tutti si aspettavano il tiro piazzato Nell'angolino, invece l'ha tirato addosso E anche nel secondo tempo E anche nel secondo tempo Quando poteva allargare il piattone Poteva allargare il piattone nell'angolino Ma sembra che non lo veda Cioè non ha proprio la finalizzazione Così come anche, lo dicevamo, così come anche nei cross Dove alle volte sembra veramente che crossi senza neanche guardare No, non è che sembra, non guarda Cioè lui un sacco di situazioni dove si è trovato a fare il cross Puntualmente l'ha messa sul secondo palo Quando i nostri attaccanti erano sul primo e viceversa Cioè vuol dire che tu, testa bassa Ma sicuro, perché uno che tira in porta E non vede che c'ha l'angolino libero E la tira addosso al difensore o al portiere Vuol dire che non alza la testa Quindi figurati se la alza secondo cross Poi al di là delle conclusioni Siamo stati molto imprecisi Sia in fase di conclusione dell'ultimo tiro Ma anche in fase di rifinitura Nell'ultimo passaggio Tant'è che penso a tante situazioni Dove veramente potevamo fare meglio E non siamo neanche arrivati alle conclusioni Quindi potenzialmente Esatto, è quello che mi fa Se andiamo a vedere le conclusioni di Parate di Andanovic Anche lì non è che me ne ricordo Esatto Siamo frenetici anche a volte Nel senso che anche nel primo tempo Mi ricordo una palla dove Leao si è andata a scontrare Con Sale Makers In 3 si sono scontrati In 3 In 3 A calpestarsi i piedi Poi c'è da dire una cosa Nel primo tempo dove eravamo anche più pimpanti Abbiamo fatto un buon pressing alto Recuperavamo spesso palla alta Però poi il problema è che appunto Sbagliavamo l'ultimo passaggio Lì un po' me lo aspetto già di più Perché comunque avevamo in campo Krunic, Sale Makers Giroud stesso che non ha i piedi sopraffini Quindi l'unico che ha un po' più di qualità Leao ma Su 4 uomini offensivi Mi aspettavo che quelle scelte portassero A qualcosina in meno Però nel secondo tempo Anche con i cambi Poi sarà che eravamo anche più bassi A livello di baricentro Sì nel secondo tempo sicuramente abbiamo abbassato Il baricentro Eravamo più stanchi E subentrata poi ha una certa Anche la paura del gol subito Che avrebbe pesato tanto Nelle dinamiche Generali E quindi lì ci siamo un po' E anche un leao Scontento di uscire Possiamo sottolineare Perché effettivamente Cioè in questa partita qua Nelle occasioni che ha avuto poi Rebic dopo Non lo so Poi è facile dire Leao avrebbe fatto meglio Leao nel primo tempo le ha avute anche lui Le ha sbagliate Però Rebic Non lo so È riconoscibile E come dicevamo in live Ci dispiace anche dirlo Perché lo vedi Che comunque ci mette sempre grinta Però caspita Sbaglia sempre Cioè ha avuto davvero diverse situazioni Dove poteva fare l'1-2 Dove poteva tirare addirittura E faceva un passaggino di ritorno strano A mezza altezza Guarda finché Finché Non riesce a saltare l'uomo Ok ci sta Nel senso Saltare l'uomo Non è come bere un bicchier d'acqua E va bene Ma quando mi sbaglio Il passaggino Orizzontale Non il passaggio verticale Tra tre difensori No Il passaggino orizzontale Lì mi fa girare le palle Cioè lì vuol dire Che non ci stai con la testa Non ci stai Sembra che mentalmente ci sia qualcosa Non riesco a capire se soffrono Anche sale makers Devo dire Anche se poi sale makers Forse è il suo livello Cioè nel senso che lui comunque Quando usciva a fraseggiare Era anche bravo Poi quando si trovava in situazioni Negli ultimi metri Sbagliava Ora sale un esterno offensivo Ti aspetti qualcosa in più Però non capisco Se è un discorso di concorrenza Che forse soffrendo un po' Il fatto che Dell'esplosione di Lea O il fatto che Messias Ha fatto qualche gol Sia Rebic che sale makers Forse hanno più paura Di prima di sbagliare Quindi osano meno E sbagliano Non lo so Una lettura così a caso No nel senso Sarebbe grave Se fosse così Vuol dire che non hanno personalità Nel senso che in teoria La concorrenza Dovrebbe stimolarti Ancora di più A fare bene Non lo so Io tento di cercare Una spiegazione L'altra spiegazione Per Rebic È che non è ancora tornato In forma dopo l'infortunio Però Oh cazzo E ora iniziano ad essere tante Perché tu ogni anno Ne fa metà Però lo scorso anno Fu decisivo Nella parte finale Della stagione Ricordo goli importanti Soprattutto a Torino Con la Juve Magari poi segna Da adesso in poi E dirai che è stato decisivo Anche quest'anno È un giocatore Che effettivamente Già altre volte abbiamo visto Andare Cioè sbagliare tutto E poi fare filotti Dove sembrava Che gli riuscisse Qualsiasi cosa Quello che dico Speriamo che si sbrighi Visto che il filotto Sarà sempre più breve Ne mancano una decina Ne mancano 11 partite Più o meno Ultima cosa Vorrei fare i complimenti A Calulu Che è entrato praticamente A freddo Per me ha fatto un partitone Insieme Dicevamo a Benasser Partitone Benasser ha fatto una partita A recuperare palloni Anche poi preciso Nell'uscite Mi è piaciuto tanto Peccato ripeto Che si A me sembra sempre Non è che abbia giocato male Stasera Ha fatto il compitino Nulla di più Però come dicevi tu A volte ti dimentichi Che sei in campo Esatto Mentre l'anno scorso Non era così Quindi vuol dire Che il vero che si Può dare qualcosa in più E purtroppo Non è riuscito a farlo Nota Giusto sottolineare Anche bellissimo Il video di Sheva All'inizio Perché ricordiamo Da pelle d'oca Ci siamo anche noi Bloccati in live Perché è stato davvero Emozionante E poi In generale Ho apprezzato comunque I toni Un po' più distesi Perché il derby È sempre derby Si sa che Eh però Anche con la situazione attuale Non lo so Forse ho visto tutti Un po' più Più per play Quindi dai Da apprezzare Tutti Tutti Tranne Steve Lo vedrete domani Live reaction Io Alle ore 14 No dai Anche io un po' più Ma è vero E beh L'occasione ci siamo dimenticati L'occasione di Teo Quella è stata bella Che lì l'abbiamo un po' giustificato Perché ce la va sul destro Quindi Sì dopo uno scatto Va bene Va bene Grazie mille Steve Grazie a te Sì in cosa Alla prossima Alla prossima Soffriremo insieme Ci giocheremo tutto Nel ritorno Ad aprile Aprile Quest'anno Cioè 2022 Giusto Teoria Se non rimandano Va bene Grazie Alla prossima Ciao Alla prossima Alla prossima